Protestare pacificamente ma con convinzione a volte paga. Questo staranno pensando i rappresentanti dell'Associazione Toscana Paraplegici, che insieme a una ventina di persone il 18 giugno scorso occuparono la sede della Giunta regionale a Firenze per chiedere maggiori risorse. E il 5 agosto queste risorse sono arrivate. La Giunta ha infatti deliberato lo stanziamento di un milione di euro in più sull'anno in corso per il progetto Vita Indipendente, che pur non rientrando nei cosiddetti livelli di assistenza minima che le regioni devono garantire ai cittadini, in Toscana viene finanziato con 8 milioni di euro solo nel 2013. Un notevole contributo proprio per la vita indipendente, che riguarderà fino ad oggi 500 persone, che saliranno a 700 persone. A fronte di questo finanziamento la persona che ha un progetto di vita indipendente appunto fa una domanda, presenta un progetto e riceve un finanziamento degli 800 e 1800 euro al mese a seconda della tipologia del progetto. Un sospiro di sollievo lo tira anche chi deve pagare il ticket per le prestazioni sanitarie. Dopo le polemiche dello scorso gennaio scatenate dalla decisione della regione di imporre il pagamento anticipato del ticket, ora la Giunta ha ammorbidito le procedure necessarie a recuperare i pagamenti mancati. Le ASL dovranno infatti prima spedire un avviso di saldo bonario, poi verificare la legittimità e l'economicità della riscossione e solo come estrema razio iscrivere l'insolvente nel registro web di Equitalia. Quindi abbiamo introdotto delle tutele particolari per l'utente, che comunque il ticket, ripeto, è una norma nazionale che prevede che venga pagato, cioè è un obbligo, non è una scelta. Alle linee guida sulla riscossione dei crediti dovranno uniformarsi tutte le ASL che entro il 30 novembre prossimo dovranno poi comunicare i risultati alla regione.